Non potete credere che ci sta gen senese? Sondaggio, senese si chiama così perché è toscano? Ma, commentate. E tu chi sei bel ragazzo? Fernanda! Si si in bobagna. Teresa? Eh, sto facendo la pipì, ma neanche la pipì in pace si può fare. Eh, ma ti devo parlare, è una cosa urgente purtroppo. Eh, vabbè. Papà. Eh, un momento. Eh, eh. Papà. No, non mi chiamava, va. Eh, no, 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 vi devo dire una cosa importante. Che è successo? Ho fatto una scoperta incredibile. Ah, l'hai saputo purtroppo. Ma io sono rimasto proprio basito. Basito? Non è termine che ti è consono, come vai? Maserice, sì. Basito, sì. Ho basato. Ma che basato? Una volta che ne azzecchi uno, sorpreso. Eh, esatto, è meglio. Oggi è il cumuliano di Mireia. Eh, purtroppo è capitato proprio oggi. Ma quant'anni fa? Non è questo, eh? 18. Ma quando è nata? Nel 2000. Eh. Mo fate 2000 più l'età di Mireia che 18. Quando fa? 2018. Teresa? Papà, no, però non è che vado solo per Mireia. No, no, facciamo con me. E domandatemi, quant'anni tiene? 30. Domandatemi, quanto si nata? 1988. Mo fate. 1988, se si gioca di prima, più 30, quanto fa? 2018. Ma mi dici che hai scoperto? Teresa? No, no. Teresa? Non mi chiamava papà. Ma mi chiamava papà. La prima cosa si chiara! Ve Kritwriter.